Il nuovo centrodestra frena sui tempi rapidi della riforma elettorale chiesti da Renzi per arrivare a febbraio a un mattarellum riveduto e corretto come ipotizzato anche da Berlusconi. Dialogo con tutti ma a decidere sarà la maggioranza, spiega oggi il ministro Lupi, stoppando all'ipotesi del mattarellum inadatto, dice al tripolarismo che si va delineando in Italia. Il collega di governo Quagliariello ancora più esplicito, Renzi cerca inciuci e ostacola il governo. Enrico Letta respinge le critiche sulla legge di stabilità, tutti chiedono ma non sono Babbo Natale, dice il premier spiegando che la priorità resta la difesa dei conti pubblici. Lunedì la legge arriverà in senato e subito dopo un decreto legge alzerà a un miliardo e 300 milioni i fondi concessi ai comuni per le detrazioni sulla tassa sulla casa. Intanto scoppia un nuovo caso sulla bocciatura di un emendamento del Movimento 5 Stelle per risparmiare sugli affitti dei palazzi della politica. E sono numeri sempre negativi quelli che arrivano dal mondo del lavoro. Le ore di cassa integrazione nei primi 11 mesi del 2013 sono 990 mila. Secondo il rapporto della CGL, 520 mila lavoratori hanno subito un taglio del reddito di 3,8 miliardi di euro. E la crisi si ripercuote sempre di più sul turismo. A Natale ulteriore crollo dei viaggi del 3%. La Cassazione restituisce e arriva gli oltre 8 miliardi sequestrati nell'inchiesta sui danni ambientali causati dall'Ilva. Si tratta di quel tesoretto che la famiglia, a detta degli inquirenti, avrebbe accumulato non adeguando gli impianti negli anni alle normative di sicurezza ambientale. Soddisfatto per la decisione l'ex ministro dell'ambiente Clini, sulla vicenda c'era il pregiudizio che i proprietari non volessero risanare l'azienda, mentre io avevo avuto rassicurazione in tal senso, ha detto Clini. Discorso di fine anno di Barack Obama, il presidente scommette sul rilancio dell'economia statunitense, facendo riferimento ai progressi registrati in Siria, Afghanistan e nei rapporti con l'Iran. Obama promette un mondo più sicuro nel 2014, nonostante i danni del caso Snowden. Il presidente ha chiesto scusa per le difficoltà della riforma sanitaria, tra i motivi del calo del suo tasso di popolarità, che è al minimo storico. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della Sette. Dunque in primo piano anche oggi c'è la politica e il governo che si avvia faticosamente verso l'approvazione della legge di stabilità, ma in cantiere restano naturalmente le riforme, la riforma della legge elettorale in primis, che è tornata ad essere in primissimo piano da quando Matteo Renzi è stato eletto segretario del Partito Democratico. L'intenzione del neosegretario con cui Letta ha detto giusto ieri di mantenere una forte intesa è infatti quella di arrivare alla riforma della legge elettorale in tempi brevi e parlando con tutte le forze parlamentari che siano disponibili, una presa di posizione che però non manca di suscitare non pochi mal di pancia. Il timore è più che evidente, il PD non rilegittimi Berlusconi, taglia corto il ministro Mauro. Renzi ostacola il governo e cerca inciuci, gli fa eco un altro ministro del nuovo centrodestra, Quagliariello, mentre il ministro Lupi questa mattina taglia corto. Benvenga il dialogo con tutti, da Forza Italia alle opposizioni eccetera, ma la maggioranza sulla legge elettorale farà una proposta unica. Lupi parla chiaro e frena anche sull'ipotesi di un mattarellum riveduto e corretto, così come ipotizzato da Renzi che secondo il ministro non sarebbe adatto al tripolarismo che si sta configurando in Italia. Il mattarellum non mi sembra che abbia funzionato come non ha funzionato poi il porcellum, i paracodutati c'erano nel mattarellum e c'erano nel porcellum. Se gli alfagnani dunque tirano il freno a mano, Renzi spinge il pedale con l'obiettivo di arrivare all'approvazione della riforma entro la prima settimana di febbraio. E la più attiva sembra essere la renziana Boschi che in retroscena raccontano essere d'intesa con il colle, già al lavoro a partire da una trattativa con la maggioranza sull'ipotesi di un mattarellum riveduto e corretto. Ma è Sandro Bondi a reagire seccamente. Spero che il Quirinale smentisca che Napolitano avrebbe chiesto alla Boschi di partire da una prima consultazione interna alla maggioranza. Non voglio credere, aggiunge ancora Bondi, che il capo dello Stato intervenga nel dibattito interno alle forze politiche per assecondare la richiesta di Alfano, il quale avrebbe chiesto al PD di arrivare all'approvazione definitiva della riforma d'aprile in modo che il governo arrivi al traguardo del 2015. Fibrillazioni dunque crescenti che tradiscono i reciproci nervosismi con il ministro Quagliariello che è ancora più esplicito in merito agli abboccamenti tra Renzi ed esponenti di Forza Italia. Con Verdini non deve spostarsi neanche da Firenze. L'inciuccio lo fa lì, del resto lì è nato il Porcellum e lì qualcuno vorrebbe far nascere la nuova legge elettorale. Sono tutte balle, smentisce drasticamente lo stesso Dennis Verdini. Sono tre anni che non parlo con Renzi. Ecco il governo all'indomani della conferenza stampa di Enrico Letta a Bruxelles dove il Premier si è difeso dai molteplici attacchi che arrivano alla legge di stabilità accusata di mancanza di coraggio e di incisività, mancati tagli al cuneo fiscale, alla spesa pubblica, gli argomenti principali per attaccare il provvedimento che è ormai in dirittura di arrivo. Enrico Letta ha usato per difendersi la metafora del buon padre di famiglia, ma le micce pronte ad esplodere sono moltissime. Non in ultimo la questione degli affitti dei palazzi della politica. Il governo non è una bancarella, ribadisce il Premier, rilanciando questa mattina via Twitter il video della sua conferenza stampa di ieri sera a Bruxelles. È il segno che le critiche piovute da Confindustria, dai sindacati, da molti osservatori alla legge di stabilità fanno male e meritano una controffensiva. E' questo il senso della difesa dei conti pubblici, la professione di prudenza, non sono babbo Natale, la metafora del buon padre di famiglia. Eppure, se una critica prevale, quella che riguarda mancati tagli di spesa è il conseguente mancato taglio del cuneo fiscale. Oltre a uno stilicidio di polemiche su alcuni emendamenti diventati punta di lancia del Movimento 5 Stelle e anche del segretario del PD Renzi. Dopo quello sulle slot machine che punisce i comuni virtuosi nella lotta contro il gioco d'azzardo, oggetto delle critiche dei grillini, dei leghisti e del PD Renziano, un altro fronte si apre per la bocciatura al Senato di un emendamento 5 Stelle che consentiva di rescindere i contratti d'affitto dello Stato, delle regioni e degli antilocali e degli organi costituzionali in corso nel 2014 in soli 30 giorni. Provvedimento pensato per abbassare i costi degli affitti della Camera e passato a Montecitorio ma dalla vita brevissima solo sei giorni. Un altro fronte polemico segnalato dal Corriere della Sera è argomento per nuove partite quando sono ancora aperte le precedenti. L'emendamento delle slot machine infatti è ancora in vigore, serve un nuovo provvedimento per bloccarlo visto che alla Camera la legge di stabilità è già passata con la fiducia. Il Governo insomma resta sotto tiro anche se nelle file renziane c'è la consapevolezza della forza dell'appoggio di Napolitano al Governo. L'ETA si prepara a delineare la fase 2014 nella conferenza stampa di fine anno che si terrà lunedì, mentre eventi di guerra arrivano da scelta civica. L'ala rimasta montiana, dieci senatori comunque decisivi visti i numeri della maggioranza dopo lo strappo con Berlusconi non vuole dare per scontato il suo appoggio al Governo. Valuteremo, ha detto a Omnibus la senatrice Linda Lanzillotta, dipenderà dal patto di coalizione da scrivere a gennaio con il pressi indirenzi e dalle riforme altra strada tutt'altro che in discesa. La legge di stabilità comunque si prepara ad essere approvata lunedì in Senato, una legge che però sembra scontentare davvero tutti in preparazione. Ci sono infatti ulteriori interventi del Governo per correggere, chiamiamole così, alcune criticità come ad esempio quella delle slot machine, un pasticcio vero, un errore secondo lo stesso Enrico Letta e poi c'è da andare incontro ai comuni, comuni che sono in rivolta per la perdita di un miliardo e mezzo di entrate e scomparsi nell'iter parlamentare della legge. La Tasi per esempio è la tassa sui servizi indivisibili forniti dai comuni. Le sue evoluzioni negli ultimi giorni sono emblematiche del caos in cui versa il sistema dei tributi sulla casa. Nel caso delle prime abitazioni la Tasi è destinata a sostituire dal punto di vista del gettito l'IMU che rappresenta una vera e propria imposta sul patrimonio. Prima sembrava che l'aliquota massima della Tasi dovesse essere l'1 massimo l'1,5 per mille e che i comuni non potessero in alcun modo intervenire. Poi, calcolatrice alla mano, il Governo ha deciso di tornare all'ipotesi iniziale innalzando l'aliquota al 2,5 per mille. Infine, per sedare la rivolta dei sindaci, un nuovo probabile intervento è un nuovo rialzo al 3,5 per mille in modo da recuperare per i comuni il miliardo e mezzo di euro che mancava all'appello. Siamo ormai al paradosso di una correzione per decreto a gennaio probabilmente a una norma che deve ancora entrare in vigore perché la legge di stabilità deve ancora avere via libera definitivo dal Senato. Un intervento annunciato dal Ministro per gli Affari Regionali del Rio che però rischia di diventare una buona notizia per i proprietari di case di lusso è una pessima notizia perché era esentato dall'Imu ma adesso dovrà pagare la Tasi. Ecco che per compensare questo effetto distorsivo il Governo imporrà ai comuni che scelgono di alzare al massimo al 3,5 per mille appunto l'aliquota sulla Tasi di concedere delle detrazioni alle famiglie che però, è stato già calcolato, non basteranno comunque a bilanciare il danno subito nel passaggio da Imu a Tasi da una famiglia con figli che vive in un'abitazione media di proprietà. Ma la Tasi non è che uno dei tre pilastri su cui si regge l'imposta unica comunale è la IUC che avrà dentro anche la Tari, che altro non è che la tassa sui rifiuti, e la vecchia Imu che continuerà a gravare sulle seconde case. Venirne a capo per contribuenti, commercialisti e addetti ai lavori non sarà facile. E questo forse più di ogni altro è il Natale della crisi con l'Istat che da giorni ci inonda di dati davvero non rallegranti che descrivono gli italiani sempre meno propensi a spendere neanche per beni primari come quelli alimentari. Figuriamoci poi se c'è qualcuno che si concede un viaggio. Che cosa trovano stavolta gli italiani sotto l'albero? Beh, dipende. La politica risponderebbe stabilità più qualche speranza appesa a segnali millimetrici di ripresa. Se però la risposta la dà alla statistica trovano un pacco con il solito stilicidio di cifre. Una scontata che nei primi 11 mesi dell'anno la cassa integrazione sfiora il classico miliardo di ore. Succede per la terza volta in tre anni, ricorda la CGL. Il record fu nel 2010, ma non significa che ne siamo lontani o che ne siamo usciti. Significa solo che molti di quegli ammortizzatori sociali nel frattempo si sono trasformati in disoccupazione. La meccanica è il settore più colpito e cresce del 20% la quota delle aziende che richiedono il provvedimento per salvarsi dalla crisi o per risanarsi. Che cosa trovano gli italiani sotto l'albero? Certamente molto poco. Ce l'hanno sempre fatta, ce la faranno pure stavolta, ma intanto la statistica, che sembra diventato l'unico settore che crea lavoro, oggi si inventa anche una nuova categoria, la povertà turistica. Per Natale ci saranno 48 milioni di italiani a casa. Federalberghi prevede che uno su due preferirà le mura domestiche a causa della crisi. Ma non c'era forse un detto che diceva Natale con i tuoi? Poi la crisi forse dà il pretesto, ma con queste statistiche Ferali magari si sta esagerando. Che cosa trovano invece gli americani per esempio sotto l'albero? Una crescita economica con cifre quasi da paese emergente, sicuramente però da paese riemergente. Un PIL in loro che nel terzo trimestre è cresciuto del 4,1%, più del 3,6% previsto. Uno schiaffo alle medie europee e ai nostri decimali sempre risicati. Che cosa troveranno gli italiani sotto l'albero? La prova schiacciante che c'è chi può e chi non può. Ecco, l'avete appena sentito nel servizio, dunque gli Stati Uniti invece sono in grande ripresa. Per questo Barack Obama nella conferenza, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, ha dato un'iniezione di ottimismo al paese. Ha detto che gli Stati Uniti l'occasione, appunto, una svolta economica, che il 2014 sarà l'anno della svolta economica, ma anche di importanti svolte nel campo della politica estera. Sarà la fine definitiva della guerra in Afghanistan, nell'inizio forse di una solida intesa con l'Iran. Il mondo, secondo Barack Obama, alla fine di questo tormentato 2013. 60 minuti di conferenza stampa per fare il punto su tutto. Orologio alla mano, però, è l'America spiona a monopolizzare le parole del Presidente, la raccolta di dati sulle telefonate e soprattutto dei propri cittadini, perché quelle sugli alleati, compresi i presidenti ed i capi dei governi, sono considerati dall'opinione pubblica quasi dovuti. Tra le 46 raccomandazioni del gruppo di esperti che ha studiato l'operato della NSA, ce n'è una che definisce l'enorme volume messo sotto controllo inutile per la sicurezza americana e chiede meno quantità e più qualità. Un giudice federale ha parlato apertamente di incostituzionalità. Obama però prende tempo, ci penserà sotto l'albero. Le nuove direttive arriveranno non prima di gennaio. Più regole e controlli per recuperare la credibilità perduta, dice il Presidente. In effetti, come gradimento, Obama al suo minimo storico, meno della metà degli americani pensa che stia facendo un buon lavoro. Ho avuto i miei alti e bassi, risponde ridendo. Il pensiero va al disastro dell'Obama che era appena varato e al fiscal cliff, l'America due volte sull'orlo del fallimento. Ma la Casa Bianca è convinta che il vento stia cambiando. Dopo quasi otto anni di crisi, i numeri dell'economia volgono al bello. Il Paese ha il più basso tasso di disoccupazione degli ultimi cinque anni, 6,4%. Per il 2014 è prevista una crescita a ridosso del 3%. La Banca Centrale ha cominciato la procedura di tapering, cioè l'asciugare, il fiume di liquidità iniettata nell'economia e farla ripartire. In più, spiega Obama, stiamo costruendo un mondo più sicuro. Certo, l'accordo con l'Irano sul nucleare è storico, ed anche quello sulle armi chimiche in Siria. Ma in Siria ancora esiste una guerra civile che, oltre a fare decine di migliaia di morti, è terreno di cultura per gruppi estremisti. Così come nonostante i tanti anni di guerra, che termineranno il prossimo anno, ricordo Obama con orgoglio, sono di nuovo basi del terrorismo, l'Iraq mai pacificato e l'Afghanistan, nel quale i talebani aspettano solo il ritiro delle truppe internazionali per riprendersi un Paese che in buona parte già controllano. Ora guardiamo la cronaca italiana perché si svolgerà lunedì a Napoli l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato nuovamente dalla magistratura perché c'è l'accusa di tentata estorsione e danni della società. In pregilo l'ex direttore dell'Avanti inoltre è accusato di aver ricattato Silvio Berlusconi con dei video girati da lui stesso a Panama. Uno scandalo a luci rosse tra Panama e l'Italia, l'ultimo arresto di Walter Lavitola fa venire fuori la storia di un video che ritrarrebbe Berlusconi con prostitute panamensi. L'avrebbe girato proprio Lavitola per poter ricattare l'ex presidente del Consiglio. Questo almeno è stato riferito ai PM di Napoli, Greco, Woodcock e Piscitelli dall'imprenditore Angelo Capriotti, a capo del consorzio italiano che a Panama avrebbe versato mazzette per poter costruire carceri modulari. Dopo una lunga latitanza a Miami, Capriotti, accusato di corruzione internazionale, nello scorso marzo è stato arrestato a Zurigo dalla Digos di Napoli. In attesa di sapere se Capriotti è attendibile e il video salta fuori, l'avvocato di Berlusconi, Ghedini, smentisce tutto. Nell'interrogatorio col GIP, dopo domani nel carcere napoletano di Poggio Reale che da quasi due anni, salvo qualche mese ai domiciliari, è la sua seconda casa, Lavitola proverà a difendersi dalla nuova accusa. Tentata estorsione e danni di impregilo per un business a Panama, il paese nel quale tre anni fa fece la mediatore tra governo e fin meccanica per tre commesse e dove passò diversi mesi da latitante prima di consegnarsi a Fimicino a metà aprile 2012. Per i PM che gestiscono i tanti fascicoli relativi alle imprese dell'ex direttore dell'Avanti, Lavitola tentò di intrufolarsi anche nell'appalto da un miliardo e mezzo per la realizzazione della metropolitana di Panama City. Promisa in pregilo che l'avrebbe favorita nella gara se poi, dopo averla vinta, avesse costruito un'opera pubblica a un ospedale pediatrico nella capitale. Un accordo di compensazione industriale frequentemente adottato, in gergo si chiama Offset. Ma l'appalto andò a una ditta brasiliana e di conseguenza in pregilo non costruì l'ospedale. Lavitola però non si è rese, minacciò ritorsioni, fece anche intervenire Berlusconi che in una telefonata al presidente di impregilo Ponzellini sollecitò la definizione dell'accordo. In caso contrario, il presidente di Panama Martinelli, secondo i PM di Napoli, socio occulto nell'eventuale costruzione dell'ospedale, avrebbe danneggiato la reputazione di impregilo, già impegnata a Panama con lavori sullo stretto. Lavitola, insomma, si diede il solito grande affare per trarre vantaggio personale da contratti tra le imprese e i governi. Gli sono contestati anche 50.000 euro ricevuti da impregilo, in nero, per organizzare la visita di Berlusconi a Panama nel 2010 e le vacanze in Sardegna di Riccardo Martinelli e del suo seguito. La decisione della Cassazione di accogliere il ricorso della famiglia Riva per la restituzione di quei 8 miliardi di euro che erano stati precedentemente sequestrati dalla magistratura perché si leggeva nel provvedimento soldi sottratti alle opere di ambientalizzazione. Annullamento senza rinvio. La decisione della Suprema Corte di fatto riporta nella disponibilità di Riva Fire, la holding della famiglia Riva, gli 8 miliardi e 100 mila euro a suo tempo sequestrati su richiesta della Procura di Taranto e su disposizione del Gip Todisco. I giudici della Cassazione hanno accolto le richieste del sostituto procuratore generale Canevelli che già si era pronunciato a favore del ricorso presentato dall'avvocato Coppi per conto della famiglia Riva. È l'ultimo colpo di scena di una vicenda ben nota. Il sequestro preventivo disposto nel maggio scorso e confermato un mese dopo dal Tribunale del Riesame riguardava beni e disponibilità finanziarie per una somma che l'Ilva avrebbe risparmiato nel corso degli anni sottraendola agli interventi per adeguare gli impianti dello stabilimento di Taranto. La cifra era stata ricavata sulla base del calcolo dei custodi giudiziari. Un tesoretto accumulato sui mancati investimenti, soprattutto nell'area caldo, che secondo i magistrati inquirenti si sarebbero tradotti in un guadagno illecito a scapito della salute degli abitanti di Taranto. Ne prendiamo atto e oggi il laconico commento del capo della procura Sebastio il braccio di ferro con i Riva aveva prodotto lo stop temporaneo alla produzione in sette stabilimenti di Riva Acciaio nel nord Italia e l'ha annunciata messa in libertà dei 1.400 lavoratori. Una bufera rientrata dopo la precisazione dei magistrati che il sequestro non precludeva l'utilizzo dei beni. Sulla vicenda c'era il pregiudizio che i proprietari non volessero risanare l'azienda mentre io avevo avuto rassicurazioni che lo avrebbero fatto ha commentato l'ex ministro dell'Ambiente Clini. Sul fronte giudiziario proseguono in questi giorni gli interrogatori degli indagati che hanno chiesto di essere ascoltati dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini l'atto che normalmente precede le richieste di rinvio a giudizio. Lunedì prossimo è in programma quello del governatore della Puglia Vendola accusato di aver esercitato pressioni sul direttore dell'Agenzia regionale di protezione ambientale a Senato. Prima di Natale c'è stata una retata del nucleo antisofisticazioni dei carabinieri 2.000 ispezioni solo nelle ultime due settimane sono state sequestrate 43 strutture commerciali elevate multe per oltre 700.000 euro sequestrate 250 tonnellate di alimenti. a Milano in particolare sono finiti nel mirino i negozi cinesi sequestrate specialità culinarie vietate in Europa nel resto d'Italia sequestri hanno riguardato insaccati pesce mal conservato centinaia di panettoni di produzione industriale spacciati invece per artigianali e nel setaccio dei nas sono finiti anche custodie per smartphone cellulari, attrezzi ginnici, giocattoli, decorazioni senza il marchio europeo insomma tutta merce che non finirà sul mercato e dunque sotto l'albero degli italiani e sulle tavole dei cenoni di Natale. La Telecom perché al termine di una lunghissima assemblea gli azionisti hanno deciso di non revocare l'attuale consiglio di amministrazione che resterà pertanto fino alla sua naturale scadenza in aprile per i consiglieri di Terco accusati di troppa vicinanza con gli spagnoli di Telefonica da Marco Fossati che proponeva il cambio di passo non è stata però una vittoria piena vediamo perché. Alla fine si è salvata ma mai come in occasione dell'assemblea dei soci Telecom di ieri la Fortezza Telco la holding che tiene le redini del colosso delle telecomunicazioni e che da qualche mese è a sua volta sotto il controllo degli spagnoli di Telefonica ha traballato e probabilmente continuerà a farlo sotto i colpi di moltissimi azionisti che quell'operazione di fine settembre proprio non l'avevano digerita il più combattivo di tutti è stato Marco Fossati erede della dinastia star e possessore del 5% delle azioni Telecom che ha preteso la convocazione dell'assemblea per revocare il consiglio di amministrazione in carica e il CDA come dicevamo è riuscito a salvarsi ma per un soffio solo il 50,3% del capitale presente e di fatto poco più del 27% del totale ha votato contro la revoca mentre il 42,3% si è espresso a favore in pratica Fossati, i piccoli azionisti e soprattutto i fondi compreso l'americano BlackRock che stando ai numeri non dovrebbe essersi astenuto cifre che dicono molte cose ma soprattutto che quella di ieri assomiglia molto più ad una sconfitta che ad un successo per l'attuale dirigenza e per Telco uno scacco completato dalla mancata nomina in CDA dei due rappresentanti proposti che non sono riusciti a raggiungere la maggioranza assoluta dei voti niente integrazione dopo le dimissioni di quattro consiglieri il board rimarrà di 11 persone fino ad aprile insomma il vero vincitore è proprio Marco Fossati che non ha alcuna intenzione di mollare la presa e anzi già annuncia battaglia in vista dell'assemblea di aprile quindi noi avremo tutta l'opportunità di andare avanti a lavorare per aprile con calma che forse è anche il miglior modo per presentarsi a un rinnovo e quindi arriveremo con un programma più dettagliato con forse una squadra più se vogliamo professionale più determinata con un disegno di futuro rilancio dell'azienda hanno usato l'aria che tira resa più pesante dalle voci provenienti dalla procura di Roma che sia pure per ora senza indagati ha acceso i riflettori attraverso un costante scambio di informazioni con la Consob sulle recenti operazioni che hanno visto protagonista Telecom telco telefonica prestito convertendo e vendita delle quote in Telecom Argentina l'amministratore delegato Marco Patuano ha promesso al termine della maratona assembleare di nove ore una governance più trasparente e corretta una sostanziale ammissione di quella che è stata di fatto una sconfitta oggi è anche giornata di campionato di calcio vediamo allora quali sono le partite che si stanno per giocare in un calcio le prese anche con le inchieste sulle scommesse e con i problemi del tifo nelle curve un inatteso regalo di Natale quello che la Corte di Giustizia federale ha voluto fare ai tifosi di Inter e Roma aspettando ulteriori accertamenti anche in virtù dei ricorsi intrapresi dalle due società contro la chiusura delle curve Roma-Catania ma soprattutto il derby Inter-Milan si giocheranno senza divieti ma questo diciassettesimo turno di campionato che sarà aperto alle 18 da Livorno-Udinese vedrà in serata il Napoli alle prese con la delicata trasferta di Cagliari la risalita in classifica ecco il terzo posto a sole tre lunghezze dalla Roma restituisce fiducia agli uomini di Benitez dopo l'amara eliminazione dalla Champions League e il tecnico spagnolo pur con le dovute cautele spera di tornare dalla Sardegna con i tre punti domani pomeriggio invece la capolista Juventus andrà a far visita a un'Atalanta in ottima forma ma i bianconeri che non possono certo arrestare la loro marcia affideranno a Carlito Steves il ruolo di Grimaldello Antonio Conte si è chiuso intanto in un silenzio stampa riconducibile alle dichiarazioni rese nei suoi confronti nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse chi non vuole perdere contatto con la capolista è la Roma che domani in casa contro il Catania vedrà il ritorno di Francesco Totti con la maglia da titolare l'obiettivo sono i tre punti per restare agganciati alla Juventus e congedarsi da questo 2013 nel migliore dei modi l'obiettivo di prendere i tre punti la domenica per chiudere questa mezza stagione di grande livello della Roma è solo questo che conta miglior chiusura di quest'anno calcistico non poteva esserci il derby di Milano promette scintille e spettacolo da una parte l'Inter decisa a riscattare lo scivolone di Napoli e fare un bel regalo di Natale al nuovo patron Tohir in casa Milan invece il tecnico Allegri lega gran parte del proprio futuro alla stracittadina su di lui ha legge minacciosa la figura di Clarence Sedorf che sembrerebbe aver già siglato un preaccordo con la società rossonera indiscrezione che fa il paio con quella riguardante un ritorno di fiamma per Cesare Prandelli caldeggiato dal presidente Berlusconi in persona breve pausa pubblicitaria ma restate con noi perché al ritorno prima di dare la linea TG Crona che vedremo se ci sono degli aggiornamenti delle notizie tra poco Allora un aggiornamento da Montecitorio che dà il via libera al decreto sul bilancio di previsione dello Stato e alla nota variazione di cui abbiamo parlato anche nel telegiornale alla legge di stabilità che verrà approvata in via definitiva in Senato lunedì prossimo dalla linea TG Crona che è a Raffaella Di Rosa dove si approfondirà la questione delle carceri una questione sempre molto a cuore del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che è tornato a parlare delle difficili condizioni nelle carceri proprio questa mattina e in TG Crona che appunto si approfondiranno anche le critiche di questi giorni ai permessi premio concessi ai due evasi che poi come è noto sono stati catturati Grazie anche oggi per essere stati con noi Arrivederci a domani